Il medical drama non manca mai quando si parla di ballando con le stelle. Ma questa volta c'è molto di più visto che a rischiare di non poter scendere questa sera in pista nel programma di Rai 1 e Samuel Peron. Il maestro, che aveva detto addio a ballando lo scorso anno, è stato chiamato all'ultimo momento per prendere il posto di Angelo Madonia, che è stato allontanato dal programma. Purtroppo, stando anche a quanto confermato da Selvaggia Lucarelli, Peron si sarebbe fatto male. Un infortunio al ginocchio, trapela da fonti vicine allo staff di ballando con le stelle. Non un problema di poco conto, sembra infatti che il maestro potrebbe essere a rischio. Ce la farà a ballare con Federica Pellegrini? Una buona dose di sfortuna per la divina, visto tutto quello che è successo in questi giorni. Mai dire mai, vedremo questa sera che cosa accadrà. Dai loro canali social né Samuel Peron né Federica Pellegrini hanno commentato queste notizie che però sembrano essere più che fondate. Li avevamo lasciati in sala prove molto felici e molto entusiasti di questo nuovo percorso insieme. Ma forse Samuel, che ha dovuto imparare in pochi giorni tutte le coreografie della campionessa, ha spinto troppo, provocandosi un infortunio dal quale non sappiamo se potrà guarire in tempi brevi. Samuel Peron si è fatto male. Potrà ballare con Federica Pellegrini? La puntata di questa sera va detto, non sarà incentrata sulle coppie che si sono conquistate il passaggio durante l'ultima puntata, visto che all'inizio, ci saranno le coppie eliminate che cercheranno di staccare il biglietto per volare alla prima semifinale di Ballando con le Stelle. Certo è che Federica Pellegrini, aveva iniziato un nuovo percorso e voleva dimostrare cosa era in grado di fare insieme a Samuel Peron, proprio sulla pista di Ballando con le Stelle. Non ci resta che attendere la puntata del programma di Millie Carlucci, anche per capire quanto è grave il problema al ginocchio di Samuel Peron. Gli permetterà comunque di scendere in pista o ci sarà bisogno di un nuovo maestro da affiancare a Federica Pellegrini. Questa edizione di Ballando con le Stelle è parecchio anomala, perché di solito a farsi male sono i VIP, non abituati agli allenamenti. E invece si fanno male anche i maestri. Vedremo dunque se Samuel Peron potrà scendere o meno in pista e che cosa farà con Federica Pellegrini. Appuntamento a stasera.